Bene, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video da Stefano, il vostro webmate. In questo video andremo a vedere insieme alcune delucidazioni sul traffico e le fonti di traffico, quindi su come vendere online fondamentalmente. C'è una cosa da chiarire, oggi quando vedete screenshot di vendite online che vi fanno vedere, di solito ad esempio può essere di Amazon, può essere di Shopify, può essere di Social Media Ads o con Affiliate Marketing o qualsiasi prodotto che viene venduto online, solitamente si mostra il lordo, cioè quanto è stato guadagnato però non al netto delle spese, quello è il problema più grande, perché il problema che tutti hanno oggi per vendere qualsiasi tipo di prodotto è il traffico, perché l'unica cosa che serve per vendere qualcosa è un pubblico, quindi oggi fondamentalmente ci sono due modi per generare traffico, quello organico, eccolo qua, e quello a pagamento. Il metodo a pagamento molti, soprattutto in Italia, lo ripugliano tra virgolette, perché molti non concepiscono il fatto di dover pagare per cercare di generare più traffico, anche se in realtà ovviamente è una forma di investimento e quindi è indispensabile investire per riuscire a guadagnare di più, e dall'altra parte anche magari per la difficoltà nel cercare di fare campagne che spesso si tramutano in un bagno di sangue dove si sprecano un sacco di soldi e non si riesce a ricavarne niente, quindi quello è il problema più grande per tanti. Non c'è ancora in Italia la cultura nel spendere centinaia di migliaia di dollari in advertising, anche se sei un individuo, quindi poi vuoi spendere per vendere i tuoi prodotti in dropshipping o prodotti in affiliazione o i tuoi stessi prodotti, però è una mentalità che ovviamente va adattata e cambiata, perché dall'altra parte è vero che con il traffico organico, quindi tra virgolette gratuito, le cose sono più semplici. Perché ho messo tra virgolette gratuito? Perché non è mai gratuito? Perché c'è sempre un lato positivo o un lato negativo. Il lato negativo del paid è che ovviamente stiamo sborsando subito dei soldi up front, anche se questo in realtà non è vero, perché se paghiamo con le carte di credito, come ad esempio negli Stati Uniti, paghi dopo che eventualmente c'è stato un ritorno sull'investimento, quindi in questo caso non stai neanche anticipando dei soldi. E in più poi, vabbè, ci sono i vari vantaggi nell'utilizzare le carte di credito con cui poi è possibile ottenere punti e cose del genere. Questo ovviamente più nel mercato americano, negli Stati Uniti. Però questo solitamente è il lato negativo, quindi che stiamo spendendo in anticipo dei soldi, senza sapere se effettivamente abbiamo un ritorno. Dall'altra parte il lato negativo del free ads qual è? Perché è sì gratis, tra virgolette, però dall'altra parte, soprattutto nella prima ipotesi, traffico organico, messo blog, ma potrebbe anche essere benissimo Google, in questo caso il traffico costa perché costa riuscire a rencare in posizioni dove otteniamo traffico organico, che ripeto, non è facile ottenere. Ci vogliono mesi, anni, a volte non viene neanche mai rencato in prima posizione su parole rilevanti. Essere rencati in prima posizione intendo essere nella prima pagina di ricerca di Google e quindi essere tra i primi risultati quando qualcuno sta cercando un prodotto. Mettiamo che stiamo vendendo pennarelli, quindi migliori pennarelli in circolazione, qualcuno cerca i migliori pennarelli che posso comprare e noi siamo la prima pagina del blog di un e-commerce che ad esempio vende pennarelli e compra i nostri prodotti, quindi in quel caso è traffico free perché è organico, quindi non abbiamo pagato per cercare quel prodotto per avere un nuovo cliente, ma è arrivato direttamente da Google. Quindi è gratis perché, ok, in quel caso siccome abbiamo la fortuna o abbiamo la bravura o siamo riusciti ad arrivare in prima pagina, ci arriva traffico, però da un momento all'altro Google potrebbe toglierci, arrivare qualcun altro e perdiamo immediatamente il traffico e quindi non possiamo fare affidamento al 100% su quella sorgente di traffico. Stessa cosa per YouTube. Ho messo YouTube perché i video di YouTube hanno una lunga vita, nel senso alcuni video sono evergreen e quindi continuano a essere visti anche dopo il passare di mesi e anni in continuazione. Io stesso ho dei video su YouTube che continuano a portare visualizzazioni e traffico fatti due anni fa. Quindi anche in questo caso è gratis perché è traffico che ti arriva gratuitamente, però non puoi fare affidamento in questo caso su una sorgente di traffico che non sai quando effettivamente potrebbe abbandonarti. Gli affiliati è la stessa cosa perché ti generano traffico per promuovere delle offerte ma anche in questo caso promuovono quello che trovano, quindi non hai sempre costante controllo sugli affiliati perché sono altre persone che possono decidere di lavorare per se stessi o promuovere altri prodotti. E Amazon, stessa cosa, se si vendono prodotti su Amazon con Amazon FBA ove prodotti che noi possediamo direttamente, dipendiamo da il più grande motore di ricerca al mondo per prodotti che è Amazon, certo, ma da una competizione pazzesca di un traffico che può essere organico un mese dove i nostri prodotti vengono venduti a bomba e poi un mese dopo non vengono più venduti. Quindi il traffico organico è quello che a tutti puntano perché il traffico gratuito ha un lato negativo pesante che è il controllo che noi non abbiamo e che quindi manca, cosa che invece abbiamo quando c'è un traffico a pagamento perché il traffico a pagamento è sotto nostro stretto controllo perché noi sappiamo esattamente quanto stiamo spendendo per click, per lead, quanto stiamo spendendo al giorno, possiamo impostare un budget e quindi sappiamo che più di quello ad esempio non andiamo a spendere e sappiamo quanto effettivamente ci sta rientrando della campagna che stiamo facendo con Facebook Ads, Google Ads o Instagram Ads o Snap Ads che è una delle sorgenti di traffico che sto testando più economiche in assoluto che in Italia praticamente non si usa anche perché è la base utente di Snapchat abbastanza bassa. Detto questo cosa voglio dirvi con questo video? Che è importante investire in advertising ma è ancora più importante testare diverse fonti di traffico anche a pagamento. Le più convenzionali che quelle di cui tutti parlano sono sui social ovviamente perché i social sono quelli dove la maggior parte delle persone passano la giornata, Instagram e Facebook in Italia oggi sono quelle che anche YouTube portano probabilmente più traffico in assoluto ma non vuol dire che siano sempre la cosa migliore per il prodotto che voi state cercando di promuovere perché quando vedete video in cui tutti vi spingono a fare Facebook Ads, Instagram Ads o quello che siano, non sanno cosa state vendendo nello specifico perché non tutti i prodotti sono adatti per essere venduti sui social perché dipende dal prezzo, dipende dalla tipologia, dipende dal target, ci sono prodotti che costano di più e prodotti che costano di meno. Quello che cambia è il tipo di approccio e di campagna che dobbiamo fare e anche il tipo di funnel che dobbiamo cercare di mettere in piedi una volta che abbiamo creato una campagna. Quello che tendo a ribadire a tutti è non ostinatevi a cercare di diventare padroni di tutte le sorgenti di traffico e diventare gli esperti in assoluto per vendere il vostro prodotto. La cosa importante è testare una singola sorgente di traffico e di advertising e concentrare il poco budget che avete da investire su quella fonte. Quindi cercate di capire qual è il social migliore per il vostro prodotto barra servizio e cercate di diventare dei maestri in quello specifico social o sorgente di traffico in modo da investire, ottimizzare il vostro budget e non sprecarlo inutilmente per magari dei social o delle campagne dove state vedendo che effettivamente non c'è un riscontro. In questo momento, secondo me, in Italia, per il momento in cui sto facendo questo video una delle sorgenti migliori è Instagram per tutta una serie di motivi sia per il target che ormai ha un ampio spettro ma si è dai 20 ed è anche più bassa fino ai 45-50 anni quindi quando iniziate a vedere anche i vostri genitori che sono su Instagram vuol dire che è un social ormai ampiamente diffuso ha più di un miliardo di utenti in tutto il mondo quindi potete immaginare che sicuramente oggi è una piattaforma da dominare sicuramente però una cosa importante da capire è che nel 2019 considerare le sorgenti di traffico e i social media come il bene assoluto e la soluzione a tutti i mali del mondo per vendere in maniera garantita ti sbagli perché ovviamente i social sì, ti aiutano a vendere ma ormai quello che fa la differenza nella vendita è nel creare un ecosistema che incentivi, che porti poi l'utente a comprare alla fine non è tanto la vendita a freddo e pensare che facendo un ads immediatamente abbiamo un ritorno immediato quello che dobbiamo fare è monitorare anche quanto è stato il ritorno nel lungo termine di un investimento pubblicitario in advertising, in social ads perché? perché magari quella persona ha visto il nostro annuncio ha cliccato una volta, ci ha cliccato la seconda volta ha visto il retargeting, vi è arrivata la mail, ci ha pensato qualche giorno e poi ha comprato tramite un link che è andato a recuperare in una mail vecchia in quel caso difficilmente possiamo tracciare esattamente tutto a distanza di così tanti giorni e soprattutto quando magari abbiamo cambiato delle campagne e pensiamo che la nuova campagna stia performando meglio perché abbiamo avuto una vendita invece è ancora la campagna precedente che aveva performato meglio ma a livello di conversioni stiamo vedendo che quella nuova sta funzionando di più anche se in realtà non è vero quindi ci sono veramente tante cose da tenere in considerazione e da dominare tra virgolette per riuscire a creare delle campagne di successo e vendere anche con successo online oggi bene ragazzi questo è quanto la vostra webmate lasciatemi raccomando un bel like a questo video iscrivetevi al canale trovate qui anche il mio account Instagram se volete iniziare a seguire condivido sulle mie storie e parecchie informazioni e tips utili qui dagli Stati Uniti e qui sotto in descrizione trovate il mio webinar gratuito se vi vai a darci un'occhiata e più sotto anche il link per entrare nel mio mastermind dove vedremo tutte queste cose più altre molto interessanti dai lei è tutto e ci vediamo al prossimo video